Amici di Readball.com, oggi parliamo di Motorola Moto G. Oggi vediamo una Motorola che torna in Italia con un prodotto molto interessante dal prezzo estremamente contenuto, soltanto 199€ per uno smartphone che non sembra assolutamente dimostrare la sua natura di fascia medio-bassa. Prima di parlare del prodotto in sé per sé parliamo della confezione che abbiamo qua di fronte. La confezione è molto semplice, oltre a contenere il telefono, il cavo caricabatterie formato micro USB, contiene la manualistica e nient'altro. Cuffie? No, assenti le cuffie. Motorola si è voluta concentrare esclusivamente sul prodotto. Ve lo mostro, finalmente lo accendiamo. Parliamo un attimo di dimensioni. È un dispositivo che misura 130 mm x 66 x 11,6 mm. È un prodotto molto compatto, si lascia tenere bene in mano. Il peso è contenuto, 143 grammi. Non sono né pochi né tanti. È quella misura giusta che consente di avere il telefono saldo nelle proprie mani, ma che non dia l'impressione di avere davanti un giocattolino. Display da 4,5 pollici. Ve lo metto a confronto con il mio Note 2. Le dimensioni sono assolutamente diverse. Questo è un prodotto che si lascia tenere molto bene in una mano, questo assolutamente no. Prima di andare a vedere il prodotto, vi faccio notare una cosa che avete notato in questo momento, che sono tutti e due a schermo spento. Le ditate che sono un problema comune dei telefoni totalmente in vetro sul frontale, ma questo Motorola, parlando del design, sicuramente soffre di un altro problema che è quello delle ditate sul posteriore. Io non l'ho pulito apposta. Questo è quello che succede con un utilizzo regolare del Motorola Moto G. La scocca è buona, si lascia tenere bene in mano, non è molto scivolosa, però è di un materiale che è lo stesso materiale dell'LG Nexus 5, che sul nero soprattutto lascia vedere parecchie ditate. Motorola ha messo in commercio diverse cover per risolvere questo problema. In Italia ancora non se ne vede l'ombra di queste cover molto colorate, ma attraverso ebay è possibile reperire altri tipi di cover di altre case produttrici. Parliamo un attimo della disposizione degli elementi del telefono. Qui abbiamo uno speaker esterno, fotocamera da 5 megapixel, flash, logo Motorola. I tasti sono disposti qui sulla destra. Tasto di accensione, tasto del volume. C'è chi dice che questi tasti sono piuttosto ballerini? Beh, qui lo sono. Nella nostra prova abbiamo un prodotto con i tasti che ballano un po', ma non è una cosa che ci ha preoccupato molto. Anzi, se non l'avessimo letta in giro non ce ne saremmo accorti. Il collegamento delle cuffie è posto sulla parte superiore del telefono, scelta molto interessante. Sul davanti fotocamera da 1,3 megapixel, lo speaker per le chiamate e nient'altro. La sim si inserisce aprendo il telefono, facendo forza qui e aprendo di qua. Non è presente alcun tipo di espandibilità della memoria. Questo modello è l'8GB e arriverà anche il 16GB nel mercato italiano. Entrambi i modelli non si potranno espandere. Quindi fate attenzione, se siete delle persone che fate molti video e avete molta musica nel vostro prodotto, dovete fare attenzione perché questo è uno dei punti deboli chiave di questo Moto G. Altra cosa interessante è la batteria. La batteria non è estraibile, non la potrete sostituire in maniera da voi. Però una cosa che va fatta a notare di questa batteria è l'autonomia della batteria. Batteria da 2070 mAh che ci ha garantito un'autonomia ragguardevole, devo dire. Perché con un utilizzo regolare, tranquillo del telefono, noi abbiamo una doppia mailing push, Whatsapp, Facebook, luminosità automatica e GPS off, abbiamo raggiunto un'autonomia di ben due giorni pieni, con il telefono che non accennava a cadere neanche al terzo giorno. La cosa più ironica è che Motorola nelle impostazioni del dispositivo mette a disposizione una modalità di risparmio energia che aumenta addirittura ulteriormente l'autonomia del telefono. Ad ogni modo nel nostro articolo dedicato abbiamo messo gli screenshot del nostro test, quindi potrete vedere attentamente i nostri risultati. Parliamo di display perché dobbiamo sempre ricordare che questo prodotto è un dispositivo che costa poco, ricordiamo, 199€. Quindi cosa ci dà Motorola come display per questa cifra? Un display che paragonato alla spesa è ottimo. Certo, è un LCD dall'angolo di visione non eccezionale, non ha un punto di nero fantastico per la sua natura LCD. La luminosità al sole non è neanche elevatissima, non segnerà dei record per la luminosità sotto i raggi solari, però è un ottimo display, è definito perché ha una risoluzione di 1280x720 pixel su un display di diagonale 4,5 pollici e su questa diagonale la definizione è veramente buona. I colori sono ben settati, la distorsione quando andiamo a piegare il telefono non è elevatissima. Ma diciamo che è un display che si lascia guardare molto bene, probabilmente uno dei migliori display che abbiamo visto su questa fascia di prezzo. Ma parliamo di hardware perché capire dove è andata a risparmiare Motorola nella scelta dei materiali, nella scelta dell'hardware per creare un prodotto con questo prezzo così basso è molto curioso. Il prodotto equipaggia un CPU Qualcomm Snapdragon 400 che è una quad core da 1,2 GHz di frequenza. La memoria RAM è da 1 GB e questo probabilmente è uno dei problemi principali di questo prodotto perché quando noi andiamo ad aprire diverse applicazioni sicuramente qualche piccolo impuntamento riusciamo a trovarlo e questo lo capiamo semplicemente perché l'interfaccia di Android stock che Motorola introduce nel proprio dispositivo è talmente fluida che anche il più piccolo micro lag è visibile. Per farvi capire una stupidaggine, se io muovo i widget nella home screen vediamo facilmente dei piccoli micro lag. Questo accade soprattutto quando apriamo molte applicazioni e la cosa va a rovinare in parte anche la navigazione. Per farvi capire questi impuntamenti dovuti al giga di RAM cerchiamo di andare su un sito che non è campione di leggerezza, magari proprio il nostro portale, aprendo ovviamente la versione desktop. Ecco, la versione desktop si carica bene, attenzione lo stiamo girando, lo scrolling è buono e stiamo usando Chrome che non è assolutamente uno dei migliori browser al mondo, cerchiamo di essere onesti. Il pinch è altrettanto scorrevole ma questo perché accade? Accade perché non abbiamo tantissime cose aperte. Quando avremo qualche cosa aperta in più dovremo cercare di ricordarci di chiuderla perché la navigazione inizierà a essere piuttosto frustrante. Quindi il pinch è buono, apriamo un articolo. Vedete c'è sempre qualche piccolo impuntamento, però non è nulla di fastidioso devo dire. Il mio Galaxy Note 2 nella sua magnificenza dell'hardware non ha la stessa fluidità di questo prodotto in molte più di una semplice occasione, quindi io direi non lasciatevi spaventare dal gigabyte di RAM né dalla bassa frequenza di clock del processore. Semplicemente se volete un prodotto che costi poco e che abbia Android, Moto G è quello con le prestazioni migliori di tutti nella fascia dei 200€. Cercherò di convincervi ancora un po' meglio sulle buone prestazioni di questo prodotto avviando addirittura un gioco dalle peculiarità sicuramente non buone dal punto di vista della leggerezza. Real Racing. Real Racing. Ok, abbiamo... Ok, deve avermi caricato il mio profilo. Avviamo una gara qualunque. Il menu è già tutto in 3D, quindi dovremmo avere già un'idea di come gira questo gioco. Però facciamo ugualmente una gara velocissima, giusto qualche istante, non una gara intera per non annoiarvi. Sì, ok, d'accordo. No, non voglio la squadra. Ok. Mentre giochiamo vi ricordo che siamo su un quad core da soltanto 1,2 GHz. GPU Adreno 305 che ha il suo perché, perché probabilmente è ciò che riesce a muovere al meglio il dispositivo. Non ricordo più come si frena. La dimostrazione di ciò che sto facendo è che si riesce anche a giocare bene su questo Moto G. Tra le altre cose voglio farvi ascoltare le capacità dello speaker. Perché siamo a volume massimo e lo speaker si lascia veramente sentire. Forse è un po' troppo frizzantino, ma non molto. Però l'audio è veramente alto e questo lo percepiamo durante le chiamate. Nelle chiamate che hanno un volume della suoneria elevatissimo, veramente elevato. Lo speaker posteriore è fortissimo. Anche lo speaker davanti ha una buona qualità dell'audio. Già che parliamo di chiamate vi dico che la ricezione è buona, il microfono. Altrettanto abbiamo provato una chiamata tra di noi e del team. Ci siamo sentiti bene sia di qua che dall'altra parte. Quindi una qualità dell'audio e della suoneria e quindi anche di tutto il lato multimediale eccellente. Ricordiamo, sempre comparato al prezzo di vendita. Parlavamo di ricezione, quindi mi sembra doveroso finire l'argomento parlandovi delle restanti antenne. All'interno di MotoGi troviamo un modulo Wi-Fi che supporta tutti i maggiori standard. Abbiamo un GPS supportato dal GLONASS che funziona benissimo. Aggancia in pochi secondi anche al chiuso. Proviamo anche in questo momento a localizzarci. Vediamo se ci riusciamo. Siamo al chiuso, non è molto facile. Ci proviamo lo stesso. Il telefono si è localizzato perfettamente nel punto in cui mi trovo. Unica mancanza, l'NFC. NFC che è assente e non ci permetterà di comunicare con altri dispositivi NFC, con altri elettrodomestici in casa NFC, con le tag, quindi niente NFC sul MotoG. Ma è una cosa che ci si poteva aspettare, dato che stiamo parlando di un prodotto di fascia medio-bassa. Vediamo, parliamo del lato fotografico. Come si comporta un telefono con una fotocamera da soltanto 5 megapixel? Va piuttosto bene, però ovviamente non aspettatevi miracoli. Tra l'altro vi ricordo, vi faccio notare che Motorola personalizza l'applicazione della fotocamera e poco più. Però andiamo a dare un'occhiata a questa applicazione della fotocamera, che è piuttosto interessante. Con uno swipe verso sinistra possiamo impostare il flash. Abbiamo una messa a fuoco e il controllo esposizione manuale, ovvero possiamo spostare questo cursore per mettere a fuoco nel punto selezionato e per settare l'esposizione. Con il tocco facciamo lo scatto. HDR, funzione di slow motion, panoramica e poco più. Con uno swipe sulla destra andiamo a vedere la galleria, che è la classica galleria di Google, ma Google ci confonde, ci dà il piacere della confusione con un'altra galleria che è foto, quella di Google+. Niente, queste sono le uniche personalizzazioni di Motorola. In più, già che parliamo di personalizzazioni, vi faccio vedere il resto, abbiamo Assist, che è un'altra funzione esclusiva di Motorola con cui possiamo settare dei comportamenti speciali, tipo modalità riposo, possiamo disattivare la suoneria, ma possiamo impostare delle eccezioni, ad esempio quando una persona ci chiama insistentemente, oppure possiamo impostare un numero speciale e così via. Tra le altre cose interessanti troviamo migrazione di Motorola con cui possiamo passare in pochi minuti i dati del nostro vecchio telefono Android e questa è una cosa molto buona. Per il resto, il prodotto si lascia usare come un Nexus, non c'è nient'altro, quindi saremo noi a personalizzarlo. Tuttavia, la debolezza del sistema Android Stock è una carenza di personalizzazione senza dover smanettare. Per farvi capire, se io tiro la tendina delle impostazioni, vi faccio notare che non ci sono molte impostazioni veloci, ad esempio manca la possibilità di disattivare la rotazione automatica. Come possiamo abilitarla? Non possiamo semplicemente, a meno che XDA non ci regali qualche tool per moddare il nostro dispositivo, gli altri tile per settare al volo il telefono non ci sono. Abbiamo provato in lungo e largo a vedere eventuali impostazioni all'interno del dispositivo, ma non ci sono. Speriamo che con l'aggiornamento in arrivo di Android, la 4.4.2 che arriverà su Moto G nei prossimi giorni, è già arrivata nel modello americano, si possa avere qualche cosa in più a livello di personalizzazione. Continuiamo sul lato, parliamo del lato multimediale, perché? Beh, perché qui c'è un altro problema, c'è il problema che il sistema Stock non ha grandi applicazioni per la multimedialità, non c'è neanche un browser per navigare il telefono, quindi abbiamo dovuto installare un browser alternativo, un browser dati ovviamente, e andiamo a vedere come si comporta lo schermo, come si comporta lo speaker, andando a beccare, se ci riesco, uno dei file video che abbiamo messo precedentemente. Ok. Ok. Cosa dire, quando vediamo dei filmati sicuramente troviamo, notiamo il fatto che il display è un LCD, quindi ha dei punti di nero non brillanti, senz'altro non brillanti come può essere il nero spento di un LED. A conferma dell'ottimo speaker che avete già sentito in questo momento, vi faccio sentire anche un brano, Night of Stydonia dei Muse, va bene. Ecco, prestate attenzione alla capacità dello speaker, ricordiamo sempre che si tratta di un dispositivo economico. Andiamo un po' più avanti. Ecco, io non so se lo speaker rende l'idea attraverso il video, ma il volume è altissimo, sia nell'ascolto di musica sia nella suoneria, come abbiamo già detto. Abbiamo provato ad ascoltare musica e abbiamo provato a riprodurre la suoneria del telefono anche in ambienti molto affollati e il suono è stato cristallino, molto alto. rende questo Moto G un ottimo prodotto per telefonare, perché ne stiamo vedendo di telefoni che non brillano proprio dal punto di vista principale, ovvero quello delle telefonate, un audio non troppo elevato, un volume della suoneria molto basso. Questo Moto G con l'audio cristallino, con lo speaker estremamente potente, riesce a funzionare perfettamente nel suo scopo base, ovvero quello di telefonare. Solo un piccolo appunto, quello del LED di notifica, che è soltanto bianco, quindi non assume tutti quanti i colori e quindi ci può dare qualche piccola confusione. Diversamente dal Moto X, che non è arrivato nel continente europeo, il Moto G non ha le Active Notification, ovvero il sistema che permette di ricevere le notifiche a schermo semispento e questa è una cosa che avviene soltanto sugli schermi LED. Questo è un LCD, quindi questa cosa non avviene per preservare ovviamente la batteria. Cerchiamo di riassumere a questo punto tutte quante le mancanze di questo prodotto, per capire effettivamente quanto possono pesare nel nostro utilizzo quotidiano. Abbiamo detto, il LED posto sul fronte, l'assenza di espandibilità, il gigabyte di RAM che a volte crea degli impuntamenti con tante applicazioni aperte. Cosa aggiungere più? La non espandibilità, La mancanza della connettività LTE, che ovviamente ci aspettavamo su un prodotto di questa fascia di prezzo e che probabilmente non mancherà a nessuno, visto quanto consuma e viste le tariffe attuali dei nostri operatori. La confezione che non è ricca di niente praticamente, ha soltanto il caricabatteria, il cavo e il telefono. Queste grossomodo sono le mancanze del Moto G, quindi sta a voi capire se risultano pesanti o meno. Per quanto mi riguarda, al netto di queste mancanze, questo prodotto è in grado di rivaleggiare ampiamente e di battere anche l'LG Google Nexus 4. Perché? Perché Nexus 4 che costa di più. Ah sì, la memoria non è espandibile come questo. Ha un LED di notifica multicolore ma non è molto potente, e quindi è praticamente inutile. La qualità dello speaker è tremendamente inferiore, così come la capacità della batteria, che in questo caso ci è durata due, quasi tre giorni, sul Nexus riesce a finire la giornata. Quindi una quantità di caratteristiche positive sul Moto G che costa di meno e negative sul Nexus 4 che invece costa molto di più. Quindi la domanda finale è, perché ancora prendere un Nexus 4 quando il Moto G è sul mercato a questo prezzo? Tra l'altro vi segnaliamo che acquistando Moto G tramite l'Amazon tedesco oppure Expansys è possibile portarsi a casa il Moto G in versione 16 GB a un prezzo veramente conveniente. Quindi riassumendo, il telefono si è comportato veramente bene. Noi non pensiamo di aver avuto tra le mani un telefono così valido su questa fascia di prezzo mai prima d'ora. Ci sono altri telefoni buoni su questa fascia di prezzo ma mai un Android si è comportato in questa maniera così sublime. Soprattutto ci ha dato grandi sorprese sulla batteria, sul lato sonoro. Sì, assolutamente chi ha 200 euro in tasca ora ha la possibilità di portarsi a casa un telefono che funzioni. Quindi probabilmente è il telefono che si è comportato meglio sulla fascia dei 200 euro. Noi non abbiamo mai visto una cosa del genere e prima di questo Moto G non avremmo mai consigliato di comprare un Android sotto i 200 euro. Ora sì ed è anche un telefono estremamente competitivo. Grazie.